Benvenuti ragazzi, io sono Emanna, oggi siamo in un nuovo video di Fortnite, siamo con Biblioteca, salve! E oggi stiamo facendo una pazzia, facendo in Ranked, noi duo vs squad, sarà impossibile? Sì, vinceremo? Mai! No, vinciamo, vinciamo, fidati! Se vinciamo, dobbiamo andare in Unreal se vinciamo, te lo dico già, andremo in Unreal se vinciamo. Mia madre mi ha detto di chiudere la finestra della mia camera, e io non lo so scordato. Adesso la chiudo! Cioè, perché? Ok. C'è, 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 c'è. frate secondo me questa partita inizia con 80 persone 85 secondo me no non inizia con 85 guardate le caramelle mie caramelle frate guarda tieni le mie caramelle ma non si attrava nell'ultima città del mondo ah no seguimi tu seguimi che è bello il rumeno se questo video ve lo vedrà un po' meno o se mi denuncia perché parlo malissimo il rumeno ma lo stesso ma non qua devi venire io sono dietro di te ah il posto segreto si vai facciamoci full io mi prendo la cesta frate frate i full qua poi c'è il posto segreto ah ecco non l'ho più visto no non ci fa entrare no frate non ci fa entrare perché sei stupido tu veni qua manu no devi venire qua sotto manu io sono già sotto no devi venire qua da me io sono già entrato già qua da me eh sono già entrato io ho preso il coso cosa cosa il cesso vuoi questo questo frate io già c'ho tutto sono già ed è blu mi puoi aspettare eh sì guarda io già l'ultato c'è proprio un uccidone c'è un assolto eh no frate ti conviene venire perchè sta arrivando già e sto prendendo il cesto qua frate 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 spaccamelo al coso così vedete sto spaccando sto spaccando e portati questo grazie grazie ma non aspetta aspettiamoli qua aspettiamoli qua aspettiamoli comodo facciamo un attentato perfetto un attentato omicidio no 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 io c'ho le bombe io c'ho le bombe io c'ho le bombe porta attenti questo che io c'ho ma le posso portare ma no ma non basterebbe fare così guarda do mano piano ma ammazzato uno ammazzato l'altro ma che ammassa le mano ammazzate alla massa ah ma c'è uno ucciso mi hanno portato il secco viola ma c'è un'anna mitica ah no 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 aspettiamo l'ultimo aspettiamo l'ultimo aspettiamo l'ultimo aspettiamo l'ultimo aspettiamo l'ultimo aspettiamo l'ultimo sceglie ehm si 12 fra mi puoi mettere la metà del ricolpicechino per favore e viene eh si adesso salgo ah ci siamo uccisi un team grazie che ho chiesto di un po' di un cecchino che bello e ci avevo proprio pochi tu sei proprio so un caricato in canneio ah andiamo andiamo frate però però facciamo insieme le cose sebbiamo vieni su mano sei cattivo lo sai dai manu vieni dai colpi pompa no dai non posso ricaricare neanche sparare colpi pompa grazie aspettami aspetti ma perché gli stai non è impicchiata no ma a me piace un'empicchiata non posso no vieni qua che ci sono un sacco di lutte oh guarda che belle lutte che cade che senso che senso ah no che senso mi sono fregato tutto ah no dici chi ne è questo piung piung ah non riusci a tenere questa ah no questo lo metto io e te ti tieni questo ok poi c'è questa che può essere molto utile bro è una mitraietta per me grazie l'ho porto io portati questo posto del sud che sono più veloci da fare ho portato i cittadini ah no l'ho portati gli cittadini no no porta gli cittadini mi portati gli cittadini qua fai drift fai drift che bello andiamo questo è più in alto di te no no bibio non andare in picchiata eh bibio va in picchiata la mano non ci deve andare in picchiata che se va in picchiata qua troviamo la gente che ci fa il c'è un dov'è che lo pusho ah è il bo è il bo guarda ho trovato la cittadini che è caldo eh portalo giù e poi prendeteli e che cosa butto i due cittadini e che cosa butto i due cittadini butto giù gli cittadini e poi li riprendi ok ma tu sei già sceso da dove sei così aspetta che ho calico ah no eh proprio ti ho calicato che spacchi là NO non te l'hai trasportato dai fra me da mia cassa epica che te la prendi sempre tu fra ah non ho giù beh tra poi poi neanche guarda ne ho trovato un altro ma questa è una pistoletta guarda io vedo vedi ci riesco a scappare senza di me no no non volevo scappare senza di te no fammelo te e c'è il ciocchino viola il ciocchino blu un piccolo urlo liberatorio spazio spazio che andiamo a prendere la macchina buongiorno 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 frate scendi spazio che ci metto lì ok poi stavo per morire di danno da caduta perchè mi avete trasportato in avanti in avanti meno mai che mi sono presa zipline spazio fai di 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 tu ho pavete questo qua il mio modo un iphone non non diciamo non vedi qualche slot ciao a tutti ciao a tutti ah ma ma mentre dovremmo salire di tanto io infatti io tipo frate c'è un cuore no vini dove ma non è niente io voglio del cuore voglio andare da qua di venire qua è bellissimo frate siamo ancora in 33 tutta sta partita che bello riusciremo in boss anche qua no no la mia schiena portaggio ok no fammi andare a prenderla me se c'è con un mino bello con noi tu dico su e ti lascio il mio ino questo con mi ma io non parlo più con la epiche giugie epiche giugie epiche sì è giusto io spiego un caricatore allora 61 ma per me per me se saprano colpi per il mio papà non saprano niente perchè il mio papà spiega 12 colpi andiamo quanti materiali sui 500 di legno 216 di mattone 50 157 di ferro fatti tanto mattone perchè io anche del tutto il tutto di tutto è giugio quale ovviamente non saliamo sull'isola andiamo sull'isola non saliamo sull'isola ho detto aspetta 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 che qua devo fare una una missione non la puoi fare e noi non non mi serve frate ti pare che no prendo un'altra non ti devo prendere ora ma non vieni qua no che bello 15.000 xp che bello frate sali nella mia auto sali nella mia auto no vieni qua mano ok arrivo con la mia auto che luttiamo io l'ho già messo a posto però devi vedere sali passo calabile che non so cosa significa non so 74 colpi pompa ti dico i miei colpi prenditi questo so 59 colpi pompa 500 di di mitraglietta 500 di asfalto e 33 di cecchino e poi mi puoi dare l'assalto ti prego che i miei chili di assalto vieni qua io ho 126 con un po' di me ah grazie per i 18 fia te io sono mai arrivato a 3 scudoni non posso portare più niente e comunque vieni finito a culo vieni finito a culo si ma non vieni qua lutta non ho bisogno di luttare devi luttare ma non prendete questi se mi trovi un pompa blu che spamma quello non quello l'altro blu io magari ti potrei anche luttare sai qualcosa per scappermi i piedi non sai che te sei fregato come fai al massimo se non devo scappare ma io scappo con te ci fateci un gesto con e comunque ci serve questa di macchia non ma perchè quella e non questa io ti serve perchè sono più veloce ciao bra c'è no bra 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 ma non sali in macchina no no sali in macchina un attimo da me ma non sali in macchina da me bra 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 guardia bra 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 non c'è nessuno dai, io ci salgo sembra sta venendo medaglia da noi io scappo via Manu io vado via Manu, saldi da me dai, dai meno male chiede che ero io quello che scappavo va immagini se non ero io aspetta che non dai giù uno c'è a banco d'euro che stai facendo? ho messo il milino bello cioè lui c'è solamente per mettere il milino chiaramente questo oh c'è qua scappa 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 adesso no ma io mi do si Manu vai via con il giampo vai via con il giampo no non posso perchè vuoi hanno il medaglione Manu Manu hanno il medaglione ciao no no sai che ti dico io mi modifico mi seguendo no mi dovevo modificare l'arma il cecchino che era senza milino quindi vai via adesso come scendo ma non vai via per fuoco ok scendo mi sono buttato c'è il lift da me scappa via con il lift appena poi vai io scappa ah ah non mi prenderete mai in volo tanto da sotto il cecchino da sotto il cecchino esatto cecchino non in testa forse ci vogliono seguire vedete se non ho colto un altro medaglione vedete se non ho colto un altro medaglione vedete se non ho colto un medaglione rip bibi no bibi oh c'è il bibi mi stavo sparando ma non c'è un team da me eh io sono da te ho modificato male il mio coso ho modificato male il mio coso ma io sono qua sotto io... io sono pure qua sotto io so sopra no ma non cemente 116 ho ucciso una da te non posso salire c'ho più meno vita di te io ho ucciso uno nell'albero ho ucciso uno ho ucciso un altro l'ultimo che è qua sopra l'ultimo fai con il medaglione mi ha sesso e mi lascio a me un'arma segno a me una mamma mitica per favore questa a me una mamma mitica per favore ma no ok grazie io c'è il mio io c'ho ancora c'è la c'è c'è la c'è te mi sa che tu ci muolli sai forse ma se ma tanto io ci rompino no no non sei ferramma sei ferramma ah sei ferramma cinque adesso vieni qua non ci facciamo cerco da ah ok tutti in memoria i miei punti bene, quello è efficace dai c'è la gente? bravo che apri la porta, uomo un uomo è più di te 290 euro ma non c'è uno da noi ma non ce la fai? no, da me c'è il medaglione che da me c'è da? no, da me c'è proprio una persona con il medaglione ciao safe no, io sono morto, ciao sto bello, vederti eh, scusa ma non eh, no, tranquillo frate c'hai pochi medaglioni stai zitto per favore io ho fatto un 290 a una persona ma non so se è morta lo sai? ma si è morta si è morta che bello perché mi ha dato l'eliminazione come oro? forse è questo qua è oro io ho fatto questa persona una cecchinata che ma con lui se l'ha aspettata ho fatto un 290 cerca di cecchinarla tutti però ammazzo, ammazzo eh vabbè eh boh però io ho ucciso uno cioè io sono uscito sette persone aspetta che invito Dani ah, quello di ieri mi ha lontano al 90% ma frate mi sono ucciso sette persone di quattordici lui di ventiquattro cento di quattro macchile cos'è l'azismo? ah, si sa un'enuomizia ora ce li scordi che è bello ciao fratello ciao sono Alexio ciao eh, sono fratello Alexio io non mi metto che sono facendo un video check mauri, mauri, mauri niente, abbandono no, biblio, ma sto gioco è razzista adesso mi faccio questo ma è possibile che io faccio 8 kill salgo di 14 per cento, tu mi una kill e 24 tu mi una kill e 24 tu mi una kill e 24 non posso? ma cos'è l'azismo? ma cos'è l'azismo? che è più bella aspetta ho lui no, no, aspetta ho due v2 oltre cose no dove? ma sei pronta? aspetta ho anche due v2 aspetta con lui metti punto no, io non lo aspetto eh, devi tutto che deve aspettare 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 mi metto un attimo in salta vado in bagno e poi aria va bene si ok ok ma dopo ci metto ci con il titolo io non ti metto questo aspetta c'era Tani che praticamente c'era un po' di te sto soffiando sul microfono ma cioè era così non c'è poco frate vero metti pronto mano c'è una pizza in mano eh, pronto mano dopo facciamo una mappa te metti pronto mano io dopo questa partita praticamente lo sai cosa voglio fare una mappa oro no no mappa oro facciamo dopo prima facciamo un'altra quando arriva lui un'altra 3v3 poi va bene sei cattivo allora trip.com cos'è? un sito butto no ma c'è un'app un sito butto un sito butto hai un app? sto utilizzando il mio cane come come si chiama come appoggiapiedi nooo no guardate ma ti sfrutti il cane? no no lo pago no quanto quanto ma a te quanti iscritti cellula? youtube eh youtube? eh youtube eh come colpi che ci stanno guardando devono mettere inscriversi ma se no ci hanno una blatta nel letto con un serpente e se poi c'è pure cinquanta di scortura no se no si trovano ogni letto mi immagino mi immagino mi immagino i bambini che ci credono questi tipo si scrivono ti immagini fra ma te dove sei? io sono al timuno ciao ciao ma siete voi due dentro di me? no 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 io non vedevo nessuno dei due eh ma non devi prenderti il tuo loot ma io so con questa persona ah ecco ma non prenderti un loot decente ok dai si che non sia spammono ovviamente troppo tardi ma non solo io posso spammare perchè ma non solo io posso spammare 1.2 mi so preso un pompa una r e un cecchino e un lampino e delle quille forse posso andare io dove vado? ma non devi andare with you ma io posso fai switch switch team no no fai no no stai lì in quel team ma non mi posso ne è andato è andato con me ma io vengo con te bravo fai mettiti con me e lui è cattivo no solito non so con lui e sono con la sinistra non so ok io che è di caccio faccio anche vado con lui ma non perchè è troppo scarso ma non sono con lui perchè lui è scarso metto spammate di più e poi anche te spammate di più e poi anche te spammate di più 290 no ma non non credo che fosse così e ti ammazzo l'amico guardate che vi ammazzo tutti i due guardate se sei guardate che cavolo lo faccio schifo però io qua non cerco ma ecco dove sei? noo eh ma il tuo amico altro aspetta che è duu ma il tuo amico è fortissimo no cioè no è fortissimo è forte no perchè sei forte non c'è le tunne sei forte? è forte no non tanto è forte aspetta che devo cambiare il mio vino ah perchè si può cambiare il mio vino? no solo io posso no io lo cambio adesso 290 290 eh che cavolo mi costruo ah eccolo qua dove dove posso cambiare perfetto ok lo mettiamo un sacco di colpi mi metto tutto mi metto tutto beh ma è andato a spattoletto ma il mio amico si è creato un fultino ah davvero? aspetta che aspetta che adesso gli vengo in casa io non ci metto tanto aspetta che mi modifico tutte le armi pure il pompa mi metto il cerchio mi metto il mirino manu eh e vengo io da te nel team è forte no fai c'è uno nel mio team no perchè adesso siamo in di più ah un po' è spuggitino tu in che team sei? eh quello di sinistra ah no lo sto con te eh per te stiamo fuggendo o te ne devi due se infatti ma sai voi siete in tre il mio amico sta andando in in tunnel e mentre che facevo un scatto l'ho preso in testa ma il comico spamma cocco non so che cosa vabbè fa bene sì ma i due sono forti ma il tuo spamma non è giusto no ma io voglio cambiare ma io non lo vedo ma non io mi faccio fuori di nuovo ecco 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 se tu guardate vai e va verso di me è possibile si vai 290 al tuo amico si comunque voi siete in 2 no noi siamo in 3 vai un altro 290 116 ma non mi puoi non so chi ne è 1 io qua sono fortissimo ma ne potete dare faccio schifo con un cecchino come mai è un mira di senza mirare gasman non ti ho cecchino io io neanche ti volevo colpire ma non mi potete non pus entra io manco ci sto spalando non 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 10 punti io ne ho 8 io ne ho 8 8 punti aia già hanno ucciso ecco bro non 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 l'ho preso ok ora si sapete che voglio il luthmano mi lascio andare a prendere un luthmano si vai pure ahi ma cosa fa prima amicizia con me e poi mi ammazzo ma no è un altro la biblio mi sono vendicato mi sono vendicato mi sono vendicato aiaa che è stato? ecco ci sono fa il culo è difficile da prendere lo sai sei privato biblio sa ricordatevi che voi queste due non mi dici chi ne è no ma ci sto so che è ci sono ci sono ci sono ci sono ci sono 290 insomma voi mica siete in tre noi siamo in tre che dio squa se ti ho spammato perché voi siete in tre e voi pure siete in tre no io siamo in due mano no vado siete in tre c'è un altro con voi con la stessa skin con la stessa skin di quello no è sempre lui ma non guardare guardare che assicca 290 290 290 a tutti tranne a te 390 390 1 non scusa ma non è che ti sto uccidendo così tante in realtà ti sto uccidendo così tante volte io c'ho 26 punti 290 ma non mi puoi aiutare come faccio a vedere che sia una persona in scuola diversa non si può solamente sparare eh ma boh in due ma il tuo spam ma non buonasera sono ritornato ma posso entrare non posso entrare un po' da stelle ma cosa state giocando la box è tutta rotta da ritornate alla lobby che facciamo partita finiamo qua non finiamo qua quanto vi manca poco non ti spamo non ti spamo non ti spamo E' un'altra cosa. 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 No. E' un'altra cosa. 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 box fight perchè box fight box fight però questi qua spamma poco però pochissimo ok tipo prendono solamente la M non potremmo scegliere un'altra arma laga non potremmo scegliere un'altra arma laga vabbè uno è stato uscito tranquillo jacob jacob 18 di bordo ok io voglio scegliere l'arma no ma ma cos'è? ma sono spawnato con uno nel box ma cosa vuol dire? con? uno nel box la bobbia che si sta fermando e io ho cresciuto ma che cazzo sono si spawn di merda lo sono anche io non ho danni stegli io tu consiglio danni io sono contento ammazzati non non ma non capisco gli spawn sono gli spawn che hanno fastidio a giocare giocare li posso benissimo arare non c'è problema ma che quanto cazzo spawn mano eh lo so uno però si vediamo attività del mondo 1 molto senti poco st rivolto e sto figlia 10 secondi mi piace la faccia si dice oggi e da me c'è io combattere 1 ma non per te non avete messo le box fight norma che cazzo stai facendo ma non so scappando 1 1 giù sono tutti la dietro tipo conigli molto uno manca l'ultimo manca l'ultimo manu e volete ma mi chiamo ma lui è un uomo ero uomo ma non se non lo per te no con la gente nel box è stato sponato in bosco ma non come spavano a mi gira e trovo la gente che mi entra ma pure io non succede no mi sono non è molto 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 mi sono il caso una bella 2 di 1 non c'è questo se ne vanno non so io vado come proprio ma ma se non riuscire ecco perché non hai messo le box fight non so non so non so non ma non 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 si scherza con me ma mi hanno mi hanno un attimo per gli ho fatto ed shot e non è morto no stai fermo no io vado con uno gli faccio headshot e appena 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 e non muoio non è possibile io sono l'unico che è uscito da venire si certo eeeh sono un po' spam mini per me mi gusti sei manu no ma 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 la cosa che mi da fastidio è lo spam perché per il resto li ha c'è per il resto li ha eeeh chiaro ii si deve esserci nemmeno da vedare cazzo ma no mi sono fatto due lag biblio biblio dai mi sono fatto due sei uno contro uno eeeh 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 passati i setti 99 e 8 99 bianco cioè per esempio qui ho spaccolo jacob nel box non si capisce nulla addio ma perché mi salta in faccia no raga mi si spenta pure la televisione no raga io abbandono uomo questa perché tanto con questi qua se ne vanno quindi un periodo ci guarda questo tutto campeonato e madame ci sono tutti quelli campeonati l'uomo non sono ecco qua non ti devi togliere no raga no veramente mi faccio uccidere non ce la faccio a questo mappa bravo biblio b come cazzo si fa giocare a questa mappa ma manco io so come faccio a giocarci ma poi spammano pure finito subito e marzo ecco appunto l'uomo aiuto mano giù una da mano anzi no no io ho 15 di vita io mi peruco qua dentro ma non è un guaito è un guaito poi non so adesso se è un guaito ma sono qua qua dentro non quello ma come cazzo uno vi uno sì perché li ho disfrutti tutti buono ma è tutto nostro qua ho costruito poco io ecco là siamo morti mi sono bugato no veramente ragazzi non è che c'ho il mesh ma sono in te no no ma no ma si no io sono in lobby io pure manu cioè perché jacob deve startare queste mappe jacob niente ragazzi jacob è andato è morto è morto è andato libero ma vuoi fare due vuole su squad ma quale cazzo devo fare due vuole su squad ma però però lo facciamo in coso in rank sei contento no il rank è no ma no se no è escludato un po' ok cambiamo ecco Nino con il nuovo pc da gaming Nino sei contento eh come va Nino sei contento Nino è arrivato il nuovo pc da gaming ecco Nino ormai gioco da tre settimane ormai gioco da gaming lo conosci poco cazzo cazzo tre nuove oh porco due c'è manu manu sto mangiando cosa c'è cosa calma cosa c'è manu che metodo io ogni volta faccio una verifica non ho studiato mi faccio la croce metto a pregare per nonno perché copio al massimo no non copio se non hai studiato non puoi prendere nove facendo tutto a caldo ma tu in che classe vai quinta b intendevo la classe soltanto la quinta non volevo sapere anche che sezione vabbè studia e fai compiti se chiamo tua mamma perché io ho il numero di tua mamma e dico che tu giochi sulla fortnite e ti faccio mettere in punizione ma io faccio i compiti inizio alle cinque più scuole sei e mezza male devi incominciare prima almeno poi e più tempo dopo no io incomincio dopo non va bene manu manu perché sei intanto nel mio palazzo perché io non mi sono nel tuo palazzo manu io adesso veramente mi ho fatto incazzare dai che si trovano tra i giardini dai allora mi hai già stilato la quinta no non voglio farmi niente voglio soltanto che mi lasci stare non atterra dove atterro io perché mi rubi tutto il loot io non ho armi e mi killano c'è per esempio adesso da me ci sono player io non ho loot dai manu è un botto cos'è che ti metti a spammare manu manu cosa cazzo stai facendo ma ti stanno chiamando cos'era sta canzoncina dan 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 che ne so io non sto sentendo niente oh ho trovato lo sburgo no cos'è che gridi manu va che con i tuoi game ti lascio dal sole vado a giocare anche da solo che deve arrivare a rialcom la scorsa season ma la scorsa season non è un video ma la scorsa season neanche mi conoscevi manu cosa stai dicendo io ti ho conosciuto la scorsa season ma non è vero si è vero ma non è vero ma non è vero ma cosa stai dicendo ma io non lo conosco da ora lo conosco da tipo un anno si è certo ma te io non lo conosco da questa storia quanti anni ha bibbia sentiamo se lo conosci hai già sbagliato no non è quattordici mi ha detto lui che anno è bibbia aspetta se è un quattordici se ha quattordici anni aspetta non c'è conto che anno è bibbia allora se è un se è un se è praticamente ah eh aspetta ti stai mettendo a fare calcoli con la calcol no posso fare 13 meno 4 e allora ha visto e io che ho quattordici anni che anno sono? 2008 ma a certe volte rimango basito dalle cose che dici se io ho quattordici anni chiedi di che anno sono? jacobi in realtà ha quattordici anni ed è 2008 e io ne ho quattordici e sono di la nove manu tu mi hai detto che hai che manu io ho quattordici anni non ne ho mica duecento non è che e quindi bibbia ne ha quindici bibbia ne ha esatto e ne ha quattordici rubami il pompa che veramente faccio esplodere casa e io no invece io vado al bunker e devi avere la schedina ho comprato il controller nuovo ieri come? perché l'altro mi si era rotto è bello è bello è bello riesco ad editare meglio riesco a giocare più fluido no io faccio un pulsante della mia tastiera tu quanti fps fai? io ne faccio trecento mamma mia ma è un pc portatile o è un pc fisso? fisso fisso che scheda vi hai? intendi da quanti giga no che scheda video hai? a quanti giga? mio padre me la compone non lo so ma come che ne sa c'è ma frate non so niente io so solamente usare il pc poi non so quante video c'è sai usarlo si ci giochi manu come non fai a sapere che scheda video ha il tuo computer la compone mio padre non me l'ha detto un conto se un conto se era il mio vabbè ma è il tuo pc cavolo manu la compone mio padre il mio padre mi ha detto che scheda video eeeh eeeh questo prova aprirlo e mandi la foto la scheda video che ha non mi direi che non si aprile il computer no si lo so aprire ma guarda ma guarda troppo solo lo posso anche far lo posso anche far vedere se hai senza aprire perchè il mio c'è il vetro e quindi ti posso far vedere direttamente all'interno bravo manu manu guarda che magia magia wow non lo so però non funziona più la magia che cosa è il tuo suo vuole di fare eeeh non mi ricordo una volta si poteva staccare questa questa gru qua una volta ma 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 ci sono più i movimenti del tipo di rampino quella vecchia no ne ha soltanto una ventina è il cerchino non è vero mitraglietta e pompa è un presidente si colpisce chino ma non lo so chi ha vinto le fbc e dov'è la tua schiena e dov'è la tua schiena e dov'è il tuo coso la mia cos'è il tuo zainetto qualcosa il cos'è non lo dato no è soltanto che non piace non sono obbligato a metterlo chissà non solo ti piace poi per me lo zainetto non piace no io invece c'ho lo zainetto ma me lo sono comprato appunto quello zainetto lo fa schifo tutti gli zainetti fanno schifo io c'ho invece lo zainetto della scarpa Nike un altro account io non ho mai avuto i zainetti tutti i zainetti che ho sono quelli che mi regala il gioco tra quanto riparte safe che se non muoio di danno di safe fra un minuto e trenta secondi ok allora ci sto e ti sto aspettando beh io sto alluttando cosa che c'è sto alluttando ci sono tre ceste ma non le apro tutte ho un bel pompa blu ma due bacche almeno vado più veloce tac tac a me era proprio qua dietro vedi ma guarda io ti aspettavo andiamo perché mi spai ma lo sai che jacob è un hacker in realtà non penso proprio anche io sono un hacker anche io non c'ho 14 anni non ho una mentalità da bambino ma ho la mentalità di un ragazzo di 14 anni ci sono uno player sì player dai che ho finito gli usi del rampino di merda qua stai ferma e non killarli che li killo glieli fox dove sono questi più buoni uccise tutti ma non però calmati un attimo sono bianchi li ho voluti uccidere aspetta che apro un attimo la finestra di camera mia perché non ci vedi non prendere il pompa blu che ce l'hai in terra perché è mio sennò ti taglio le mani ma io già ce l'ho il pompa blu da un botto di tempo e io ce l'ho viola il pompa non penso ho visto ho visto volevi un pompa blu era soltanto per ingannarti non penso non penso proprio entra ma dimmi se trovi dimmi se trovi la mitraglietta quella a tre colpi magari non bianca magari blu se la trovi se trovi la mitraglietta a tre colpi blu senza mirino se trovi dimmelo perché a me piace mi fa sboccare quello ma i player dove sono manu guarda posso sapere dove sono i player e con me no sei mano tu lo dovresti sapere dove sono i player aspetta ti cerco di finire c'è trovali c'è poco di gente qua un po' eh sì e là dietro a me sono dall'altra parte dove? mi sono pingato va che se non c'è gente mi arrabbia ti ho cercato una città ma non mi ha non mi ha saltato bene ma non ma tu sai farlo il tripoli edito sì però non tanto bene allora vai farlo vediamo se lo sai fare ok aspetta aspetta manu manu si buildare manu manu si buildare ma cos'è che buildi player sono dall'altra parte della città e tu buildi ma c'è quando è più in alto ma che più in alto si push basta oh pompa viola attenzione manu io pompa viola ce l'ho davvero adesso adesso si da te eccola anche la mitraglietta bella dove sono qua i player che esplavano sono dietro il coso io salgo qua sopra a prenderai dov'è che sono ma da dove ah da sotto ok ti sei ucciso quelli che erano la sua questo è almeria si c'era c'era soltanto un player bravo io mangio le bacche almeno divento fortissimo prendo la taglia adesso andiamo subito a push dove è? è qua dove è manu? là sto fingando andiamo a push subito la taglia ci siamo aggrappati tutti e due al stesso posto hai fatto ok vabbè sei sopra l'isola ma sicuro mi stai trollando perché se mi stai trollando veramente mi arrabbia non so se è precisamente se è là no non è sopra l'isola è qua dietro io vado a push il player dietro ma tu manu sei sei scavoli non è vero ci sono uno dai manu pre rieschi pre che il mistilli non è fortissimo non manu mi chiede non manu non era un pippone non so infatti so guarda una scena non manu manu non c'è spuglio manu manu non c'è spuglio oh è forte questo ah è sì non è vero se vanno gente dall'alto dietro di noi si è ucciso quello perfetto buono la corona aveva ci piace no io voglio la corona la corona voglio grazie ma io me ne vado un po' lontano perché ho poca vita ah ma tu sei dai player proprio così da me c'è un player ma è nabetto poveretto eh dammi c'è un team che mi hanno spammato con la mitraglietta no no con la mitraglietta corrello aspetta mi sa chiama mia sorella aspettate 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 tutti aspettate tutti ma non capisco più nulla perché qua ci sono tutta me ah ma è un team questo sì ma questo che continua a fare 90 sì certo ma quanto sbammano ma dai ma che cazzo è sto timano ma per piacere che cazzo è sto timano che cazzo è sto timano che cazzo è sto timano perché cazzo è sto timano 5 cellulari nella sua casa eccomi allora ragazzi per oggi non si finisce qua ci vediamo al prossimo video di Roblo ciao